Cosa vuoi dire? Joy tu vuoi dire qualcosa? Signor Downey Junior cosa vuole dire alla stampa? Facciamo i cartelli come su Sheik Av Voi volete dire qualcosa alla stampa? Auguri grazie Ci sorride Per la terza volta auguri grazie Dai concludi con un discorso Non dire anche i tuoi auguri grazie No no grazie Grazie a tutti di essere venuti Dei regali Avevo capito Anche di essere viventi Anche di essere viventi Ringraziamo i piedini di Spagna e Romano Che sono rimasti Ringraziamo gli Spagna e Romano Che sono venuti alla festa Il signor Robby Downey Junior Quanto devi pagarlo il signor Robby Downey Junior a fine serata? Lo paghi in denaro o in natura? E non mi scondo E non mi scondo